Benvenuti ragazzi qui in cucina con Mau, allora abbiamo una pentolozza qua, la stiamo riscaldando, un po' d'olio d'oliva, qui abbiamo dei pesciolini, andiamo a farci due spaghetti, hi granchi, hi guys, we're gonna cook, we're gonna cook some nice lovely spaghetti, ok, so the pot is hot, bit of olive oil, be generous, now we get some garlic, head of garlic here, just give a little cut like this, put everything inside, plenty garlic, ok, it has to warm up I got some boiling water going, ragazzi due spaghetti, what's my crab, il granchio ragazzi, spaghetti e granchi, bello lì, abbiamo anche due pesciolini, poi pensiamo a cosa farne, allora possiamo mettere una griglia e friggere un po', cuocerne un po', vediamo un po', se troviamo il materiale, allora, ecco qua, abbiamo la pentola di ferro, la padella di ferro, accendiamo il gas, ecco qui, adesso l'olio sta rosolando per bene, questo per l'acqua calda, mettiamo il sale, ecco qua, sta rosolando bene il mio aglio, qui abbiamo i granchietti, belli, grossi, ne ho preso in due ragazzi, ci mettiamo le zampette così un po', ecco qua, ecco qua, ecco qua, non trabagnate quindi un po', ecco qua, piano piano, poi rimane il fapore, le pelle le tagliamo, le pelle le tagliamo, due, via, una volta di eventualità, Pagliare. Pagliare. l'acqua calda ragazzi andiamo a rosolare bene adesso la mia paveta è calda aggiungo una puntina di olio d'oliva due cattolini e la fanno posta e la fanno posta aggiungo il franzo aggiungo la fiamma aggiungo le pinche e aggiungo la pasta il nostro granchietto. Possiamo tranquillamente coprire volendo i pesci ma non facciamo bene. Mettiamo a cuocere un po' di piazzemolo, un po' di basilico, il peperoncino e un pomodoro. Andiamo a arrangiarci qua. Non so quanto riuscite a vedere. Mettiamo il peperoncino, il pomodoro, ecco qua, c'è l'altra acqua. E' un po' di piazzemolo. E' un po' di piazzemolo. E' un po' di piazzemolo. E' un po' di piazzemolo, e' un po' di piazzemolo. Prendiamo il pomodoro. Buon appetito. l'acqua bolle, due spaghetti, diamo il numero 5, un po' di pasta, e via, peppiamo, mettiamci l'abbondanza, fate cuocere bene il pesce per 6-7 minuti. Ah Richard, come stai facendo? Spaghetti with crab today and some sea brings, white sea brings today. There we go, slowly slowly. Grazie. Grazie a tutti. Ok, pasta sta su boi, 250 grammi pasta, 2 pepe. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 sevenaner. a tutti. a tutti. gradiamo. pe. pova. no. un po' di acqua un po' di acqua un po' di acqua chiamiamo qualche amicchetto vediamo un po' cosa ne pensano ecco, un piccolo invito l'abbiamo fatto ok ragazzi, gli spaghetti stanno ancora cuocendo adesso continuiamo a piacere, ragazzi saporitissimi saporitissimi ok, la pasta, ragazzi, sta asciugando di nuovo e noi mettiamo un altro goccino d'arte adesso è quasi al dente, non è pronta comunque ancora la cremina lì mettiamo bene il cacermolo deve essere un pesto un pesto anche lì troppi un pesto molto bene molto bene ok ragazzi, siamo arrivati a livello Andiamo a prendere tutti i piacchini del piacchino. Qui si arriva. Poi si arriva. Poi un po' di parte. Ok, l'ultimo di acqua di acqua di acqua. Siamo arrivati, il job is done, nice chunk of parsley. Here we go, mix nicely, oh guys, look at that, look at that, another touch of olive oil on top. That's it, now you switch off the flame, yeah, switch off the flame. That's it, job is done. There we go, split everything. Ready, go again. Okay guys, my cup is ready, I move it away from the flame completely, let's clear up here. Let's see, this is a little bit of liquid, so it's perfect. One, two, three, boom. Clean the pork, we clean everything. Yeah guys, keep the place clean, as much as you can, yeah, clean. Right. OK, let's talk about a little bit more. Yeah. So, let's go. Yeah, that's cool. Yeah, that's cool. So, let's go, I mean it too. He's going, I'm going to go, he's going to go on the other side, and he will going with it. So, let's go. Yeah, it is really nice, man. So, let's go, let's go, the nice little chicken. So, let's go. Let's go. Okay, let's go. ok ragazzi marazziamo un pochino adesso ragazzi devo fare una besciamella una besciamella spostiamo la fiamma qua per il pesce come fare una lasagna quindi benvenuta Nicola benvenuto allora un bel pezzo di burro ecco qua facciamo sbagliare il burro un cucchiaio di farina e iniziamo a mescolare peppe una pittina di sale facciamo una bella besciamella io ho ricevuto il latte pian piano a fare la lasagna per i bambini il ragù l'ho già preparato adesso ve lo faccio vedere stanotte l'ho fatto stanno fino a presto ecco qua il ragù facciamo una bella besciamella veloce veloce e mettiamo tutto in forno danni accendiamo il forno lo facciamo riscaldare mi raccomando dovete girare in continuazione in continuazione e non fate bruciare niente il pesce ormai è quasi pronto allora fra un po' ci facciamo un bicchiere di vino ragazzi quando impiati la pasta e vabbè non c'è sono le 11 del mattino qua Nicola non c'è frena mia moglie sta lavorando appena rientra trova la pasta pronta lo so non l'ha fatta al momento però sto cucinando per passarci l'ora più che altro ecco qua facciamo la pasta lì la salsetta prendiamo una teglia questa è per la lasagna facciamo così dovete assicurare che non ci siano granuli di farina mi raccomando prendiamo la pasta della lasagna ecco qua diamo delle sfoglie le appoggio qui ad angolo pian piano io aggiungo il latte allora il pesce è cotto possiamo anche scenderlo allora mettiamo un po' di ragù alla base della lasagna ho messo poco pomodoro solo pomodoro fresco oggi perché i bambini si lamentano non gli piace troppo il pomodoro ecco qua una bella base qui abbassiamo il fuoco prendiamo le altre lasagna e qua una due pian piano tengo sempre un pochino di latte diciamo non ci vuole di soltare non dobbiamo forzarla ancora ragù così parliamolo bene altre due fette le mettiamo al contrario così adesso c'è da aspettare per la besciamella una spruzzata di parmigiano la scaglia mi raccomando dovete proprio stare attenti perché si brucia subito possiamo anche spostare i pesci la pasta è decisamente pronta ok spostiamo i pesciolini ecco qua hop là hop là hop là dobbiamo organizzare non c'è spazio ragazzi uno bene bellino ok mettiamo da parte spostiamo la pentola qua mi raccomando che non si bruci la motta la cotta col fuoco anche è basso mi raccomando un altro po' di latte sei indietto ignazio carissimo cosa non credi Nicola dai che la in Cagliari batte la Roma domenica dai 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 ragazzi adesso la lasagnetta stiamo in avanti piano piano un po' non ben caldo occhio sempre a girare ragazzi non bisogna staccarsi un attimo altrimenti è un po' di attaccare la cotta stagnola vi raccomando andiamo due pezzi qui allora il mio ragù ha cucinato tre ore va bene l'ho fatto stamattina molto presto e via facile facile deve cuocere no? deve cuocere la farina è un po' di ecco qua non ci sono più grumi poi la copriamo tutta con la carta stagnola in forno 45 minuti a 180 gradi poi togliamo la carta stagnola e la lasciamo altri 5 minuti questa mia pasta qua piccante straordinaria la possiamo anche assaggiare non è che se riusciamo a pezzarci un bicchiere di vino ragazzi la tazza di ruola c'è vino di sardegna vino italiano non è di sardegna assaggiamo un po' di bianco questo è un brindisi al cagliari calcio ragazzi grazie Nicola ecco qua che non si attacchi niente ragazzi adesso aggiriamo un pochettino qui ecco qui spargiamo bene spargiamo bene spargiamo bene ragazzi facciamo anche di calzino ma non fa niente altre due effette così un altro po' di ragù 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 semplice solo col basilico una cipollina niente di niente di speciale ecco qua ecco qua andiamo a recuperare un altro po' di formaggio ecco qui altre due effette ragù a giro un altro ragù bene fatto con pomodori freschi scusate il casino qua ecco qui un po' di salse fate sì che la pasta si è coperta bene manciata di parmigiano non troppo perché i bambini logicamente poi non te lo mangiano altre due fettine ecco qua ragazzi è uno spettacolo ho abbondato con la carne ma non fa niente non si butta niente ecco qua adesso buttiamo con la salsa sopra ecco qua spammatela bene ragazzi lasagna pazza allora adesso a questo punto dobbiamo metterci un altro pochino di formaggio e la copriamo bene un sorcetto di vino per non dimenticarsi che questa è più nobile e copriamo a giro così che va bene 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 va bene va bene ragazzi adesso là vi raccomando a 180 gradi ok? 45 minuti 180 gradi ancora andiamo e altra cosa è fatta ragazzi via pulizia pulizia quindi però Grazie. 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 Eccoci qua raga, eccoci qua. Allora, assaggiamo uno spaghettino ragazzi. Qui c'è il pesciolino. Abbiamo i spaghettini qua, alla grande, eccoci, sono proprio invitanti. Dai, due ci assaggiamo, dai. Ecco qua. E raga, va bene? Che ne dite? Bellino? Assaggiamo, vediamo se è buono. Vediamo se è buono. Brindisino, Comauqua, Nicola, Ignazio, tutti carissimi. Cin cin da Londra, con tanti auguri. Cagliari, è un Cagliari Roma con un Cagliari Vincente. Buono, è buono. Allora, assaggiamo. Allora, spostiamo però le pentole. Qui, così. Forchetta. Cucchiaio. Cucchiaio. Io ho una mania di maniera con cucchiaio. Chissà perché. Allora, ragazzi, i miei. Devo fare spazio qua. C'è poco da fare. Cucchiaio. Ecco qua. Ancora un attimino. Un spettacolo tutto qui. Ragazzi, spaghettini al granchi e peperoncino e vino del Veneto. Un attimino, ragazzi. Celline. Dusccosius per l'es Crea. Nonma! Datâu dunna. Dascular è vecchioыми. Datume di lei. Dat blends dal-ckino. Un attimino. E sì. Mauvevano, ragazzi. Ne sommini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ne ho messo tre, ho fatto lo scemo. È buonissima. Il sapore del mare, i granchietti lì, strepitosi. Direi che va benissimo. Aspetta, sono grandi. Il vino non è male, eh? Leggero, leggero. Vino della casa. Il pesto lì non lo diamo alla signora, dopo, quando rientra. Un po' troppo piccanti. Le piazze sono piccanti ma non troppo. Oh la la, bruciano. Però sono buoni. Ottimi. Ottimi, ragazzi. Buoni caramè. Buonissima. Buonissima. C'è da sbarazzare qui, sempre da sbarazzare, ragazzi. Se non si utilisce male, rimortarci. Rimortarci. Beh, certo che un vinello così, ragazzi, ci scende, ci scende. Allora, ragazzi, che vi racconto? Il lavoro, fra un po' cambio, finisco un lavoro per un ente pubblico, che è durato nove mesi, a mezzo stipendio, per andare avanti per il periodo del covid. Ho tante chiamate, quindi dovrebbe andare bene. Ancora non ho niente di sicuro, però. Le stanno muovendo le cose. Troppo piccanti, ragazzi. Uff. Uff. Troppo piccanti. Troppo piccanti. Troppo piccanti. Allora. Pugiamo un coppo di tutte le lasagne. È coperta, va bene, non si può fare più di tanto. Uff. Magari dopo... Ah, è troppo piccante. Troppo... Unge. 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 Bello veramente, mamma, un sapore unico, ho esagerato, quindi la prossima volta massimo due peperoncini, non tre, non li metto mai tre in realtà, però era una cottura veloce, per quello punge, buonissima, allora, che vi devo dire, vi salutiamo ragazzi? Ci dobbiamo salutare, gran forza a Cagliari per domani, magari ci possiamo anche ricollegare in un altro momento, faccio altri due pesciolini, una ricetta diversa, è uno spaghetto, sempre magari con i granchi, ma diverso, meno piccante, magari un po' più di pomodoro, vediamo un po', vi saluto, bacioni da Londra, Mau, condividete il video che mi fa molto piacere, Alla prossima, vi raccomando, forza a Cagliari, Cagliari Serie A, se Dio vuole, se giudiciamo bene, ciao ragazzi, buon fine settimana a tutti, ciao ciao